Ups a tutti ragazzi e ragazze come state oggi giorno 22 del calendario dell'avvento e cosa farò oggi un trigger secondo me molto carino ma per scoprirlo indossate un paio di cuffie auricolari, stendetevi sul vostro letto e cercate di dormire va bene? E oggi come trigger ho scelto delle luci da mettere sempre sull'albero mi sarebbe piaciuto fare questo video con le luci accese, le lucine con queste lucine accese però sono molto potenti e fanno difetto con la videocamera penso perché si vede proprio che brillano brillano quindi vabbè per questa volta lo farò senza però secondo me hanno un suono molto molto bello bello che c'è c'è ce c'è c'è Grazie a tutti. 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 Cucu, cucu. Grazie a tutti. Il video di oggi purtroppo finisce qua, ma se voi volete potete restare ancora insieme a me, perché ora vi lascio di qua il mio video precedente, di qua una mia playlist e qua da qualche parte il tasto per andare sul mio canale e vedere qualunque video che vogliate. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Noi ci vediamo domani. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.